Abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza di testimoniare il risorto, uscendo dagli atteggiamenti autoreferenziali, rinunciando a trattenere i doni di Dio e non cedendo alla mediocrità. Il ricompattarsi del Collegio Apostolico mostra come il Dinea della comunità cristiana ci siano l'unità e la libertà di se stessi, che permettono di non temere la diversità, di non attaccarsi alle cose e ai doni, e di diventare martires, cioè testimoni luminosi del Dio vivo e operante nella storia.